Trasmutazione emotiva, un webinar veramente pazzesco. Riuscire a spiegare ciò che si è vissuto in questo viaggio di due ore risulta veramente difficile. Parto da quando ho letto il titolo e i contenuti di questo webinar. Si è generata una incredibile energia, forza, che mi ha portato subito ad iscrivermi. Come se la vita mi stesse chiedendo di fare questo passaggio. Sapevo che non sarebbe stato facile ritornare a contatto con la propria ferita. Questa volta riconoscendola, dandole anche un nome. Il dottor Pasquale Adamo ci ha fatto vivere un vero e proprio viaggio. Eravamo vite sconosciute, ma si è creata un'isola di condivisione rispettosa. Ognuno con la piccola e grande ferita. Desiderosi di ripartire da lì. Personalmente due sono stati momenti veramente profondi, importanti. Uno di questi è quando il dottor Pasquale Adamo ha detto una frase. Più grande la ferita, più sarà la luce che ne verrà fuori. Per me quella è stata liberante. Mi sono sentita come fare pace con quella ferita. Mi sono sentita come se quella ferita ora esistesse per me. E attraverso quella ferita ci fosse tutto il mio perché su questa terra, il mio scopo. E questo trasmutare la ferita era proprio trovare la bellezza in questa ferita e farne uscire i doni. L'altro momento importante è stato trovare il mio angelo. Colui che mi avrebbe indicato come portare al mondo questi doni e renderli bellezza. Grazie Master Coach Italia e grazie Pasquale Adamo per questo bellissimo webinar.